Calogero Minacoli, è arrivata questa sconfitta contro il Vasto Girardi, un primo derby stagionale, sconfitta però un buon test per voi? Sì, peccato perché abbiamo giocato bene, tranne la parte iniziale che eravamo un po' indimoriti, però siamo usciti bene, si è visto, siamo stati sfortunati, ci mancano tre errori arbitrali che secondo me ci potevano stare questi gol. State lavorando tanto qui al Civitelli anche in vista del campionato, si partirà il primo settembre? Sì, stiamo lavorando tanto, il mister ci dà dei consigli importanti e noi credo che giorno dopo giorno stiamo crescendo sempre di più. Come ti trovi con i tuoi compagni? Tu sei un nuovo acquisto, quindi una nuova squadra per te? Sì, mi sono subito integrato in questo gruppo anche grazie ai consigli dei grandi e niente, dobbiamo continuare a lavorare, è questo. Su cosa lavorerete nel dettaglio per le prossime uscite? Ma intanto questa settimana sicuramente cureremo la parte atletica, poi ci concentriamo per la prima partita del campionato. Un'ultima considerazione, un plauso ai tifosi, a corsi davvero in tanti? Sì, i tifosi ci danno una mano in più e noi dobbiamo sfruttare questo fattore casa che è molto importante.